Chiusura e un buon rialzo per Piazza Affari che svetta sul resto d'Europa, debole in attesa del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve negli Stati Uniti e dall'esito delle elezioni nei Paesi Bassi. A Milano il Fuzzimib chiude con un balzo dell'1,21% e lo spread tra BTP e Bunda in flessione a 186 punti. Sulla piazza milanese brilla Leonardo che balza di oltre il 7% sul ritorno al dividendo. Rialzi oltre i due punti percentuali per Unipol, Tenaris, CNH, Industrial alle fre bancari bene Banco BPM e Unicredit, Tonic e Eni, Prismian e Fiat Chrysler prevalgono le vendite sulla moda con Ferragamo.